Siamo alle pagine sportive per questo 16 settembre che vede commentare soprattutto un fine settimana calcistico poco felice per le tre umbre dei professionisti, c'è stato anche lo spettacolo al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nella MotoGP insomma tanti appuntamenti ma intanto al griffo servono i gol, commenta il Corriere dell'Umbria dopo lo 0-0 con la Juve Stabia tre reti in altre tante gare ma solo una sua azione, troppo poco per il potenziale per oggi in deficit di occasioni create Oddo al lavoro per limare le prime difficoltà di stagione intanto Gubbio a rapporto dopo l'1-1 con il Fano, 1-1 deludente il presidente Notari sono preoccupato, voglio parlare con tecnico e staff, Guidi dice serve tempo, 17 giocatori nuovi molti arrivati sono a fine agosto, insomma ci vuole fisiologicamente tempo per amalgamarsi del resto sono anni che il Gubbio cambia una diecina e anche più di giocatori ogni anno e non si può pretendere ovviamente dopo due giornate già che giochi a memoria i cambi dei marchigiani hanno fatto la differenza, dice Cesaretti, dobbiamo imparare a soffrire intanto il Vicenza batte il rimine del terzo, Vicenza che sarà prossima avversaria del Gubbio domenica sempre al Barbetti alle ore 15 ma ieri in campo anche la Ternana a cui è andata peggio di tutti perché da leader della classifica ha perso in casa col Monopoli, Ternana spenta, passa il Monopoli prima sconfitta dopo tre vittorie, squadra in affanno, seconda nei contrasti, priva di gioco e identità dopo gli sbadigli del primo tempo, Fella e Jefferson firmano il blitz dei pugliesi Palo di Mammarella, gol annullato a Furlan per le fere Scienza dice siamo stati super, micidiali nelle ripartenze Magallo, tecnico Ternano non cerca scuse, calo fisico, hanno vinto con merito Le Pagelle, Russo doppio grave errore, Proietti lento e macchinoso, Marilungo perde tutti i duelli questo per il Corriere andiamo alla Nazione, il Grifo prepara il Tour de Force, tre gare e due ex in sette giorni si saranno Spezia, Frosinone ed Empoli dopo il match in Liguria sfida Anesta e Bucchi, la ripresa fissata domani pomeriggio, oggi il verdetto sul K.O. di Angella intanto va male anche alle Grifoncelle che esordiscono in Serie B con un pesante K.O. il Chievo vince 3-0 Ternana da Incubo, primo K.O. stagionale, i rossoverdi irriconoscibili crollano alliberati, il Monopoli si prende, i tre punti, le somme, dice Gallo, tiriamole alla fine e poi il Gubbio che viene ripreso allo scadere, Guidi siamo calati nella ripresa condizionati da un calo fisico e da un po' di timore, dice il tecnico rosso-blu infine diamo un'occhiata al messaggero, Grifo, Tour de Force, Verità dopo il pari con la Juve Stabia che ha fatto emergere criticità tre partite in sette giorni Spezia, Frosinone ed Empoli per testare le reali possibilità del Perugia la ricetta di Oddo verso la Spezia servono maggiore lucidità e una crescita collettiva diamo un'occhiata alle fere che vedono tornare i fantasmi incredibile involuzione della squadra, il Monopoli gioca meglio e merita la vittoria per 2-0 Salzano fermo, Ferrante un solo tiro, la rabbia del mister capitalizzati dai pugliesi, i nostri errori e chiudiamo con il Gubbio che tra poco vedremo perché Guidi sbotta dice non si può vedere tutto nero in quello che sta facendo ora la squadra che comunque ha tre punti dopo quattro gare non è proprio un bilancio esaltante ma soprattutto quel che preoccupa è il Gubbio visto sabato sera, squadra senza nerbo, squadra che praticamente nella ripresa non è riuscita a entrare in area, ne parleremo stasera a fuorigioco ma intanto rivediamo come è andata nel servizio di Giacomo Branco Gubbio contro Fano al Barbetti nell'anticipo della quarta giornata del girone BDC 4-3-3 sia per Guidi che per Fontana e dopo neppure 90 secondi sbaffo, crossa da sinistra, Bacchetti si vede passare il palone alle spalle ma sul secondo palo c'è Cesaretti che calci in controbalzo Viscovo risponde presente al quinto punizione profonda di De Silvestro Cesaretti sbuca sul palo lontano ma di testa mette a lato al settimo Filippini crossa, De Silvestro prova la rovesciata ma liscia la sfera e sul capovolgimento di fronte il Fano si rende insidioso con la giocata personale di Canis il cui mancino è respinto da Zanellati al sedicesimo approvarci e sorrentino dalla distanza Viscovo blocca in tuffo senza patemi mentre al venticinquesimo De Silvestro cadinare dopo un contatto con Gatti ma per l'arbitro Luciani di Roma 1 è tutto regolare e sulla ripartenza Canis cerca l'inserimento sotto porta di Barbuti ma il pallone sfida sul fondo ventottesimo minuto pennellata di sbaffo dal vertice sinistro dell'area per l'incornata di Cesaretti che prima bacia il palo e poi si deposita in rete Gubbi in vantaggio grazie alla seconda rete consecutiva dell'ex Paganese ma ancora decisivo in fase di definitura il magistero di sbaffo il Fano reagisce al trentatresimo tiro cross in diagonale di Carpani messo in corner da Filippini ma al quarantatresimo un contropiede del Gubbio ispirato da Cesaretti mette Malaccari nelle condizioni di calciare di destra rete ma il capitano del Gubbio sterza sul mancino e calcia Gatti si oppone e poi sulla ribattuta ci prova De Silvestro ma Viscovo blocca si passa la ripresa e dopo quattro minuti Carpani in buca in area per Barbuti uscita provvidenziale di Zanellati full ex Teramo al cinquantatresimo angolo di Canis torsione aerea dell'ex Tofanari e palla che si infrange sulla base alta della traversa a Zanellati battuto il Fano è padrone del match e al sessantanovesimo De Vito crossa profondo per Canis controllo mancino e conclusione di destro alta sopra la trasversale il Gubb torna a farsi vivo al settantacinquesimo Mugnoz subentrato a Elilali crossa da destra verso Sorrentino anticipato dalla chiusura di Di Sabatino al settantottesimo parlati con un sontuoso filtrante centrale peschi in area Barbuti che sfugge alla marcatura di Conatè e viene travolto dall'uscita fallosa di Zanellati calcio di rigore solare per i marchegiani e alla battuta va lo stesso Barbuti Zanellati intuisce l'angolo ma non può arrivare sulla trasformazione del numero 27 ospite che firma il pareggio per il Fano nonché la seconda marcatura personale consecutiva in campionato Gubbio in grande difficoltà e si capisce ancora di più quando a sei minuti dalla fine Conatè, altro ex della gara regala palla al classe 2001 di Francesco che si invola di slancio verso la porta e Gubbina resistendo al ritorno dello stesso Conatè ma questa volta l'uscita di Zanellati è impeccabile al novantesimo parlati riceve al limite dell'area calcia Filippini con la schiena devia di poco sopra la traversa è l'ultima occasione di una partita che ha visto il Gubbio passare in vantaggio e tenere con competenza il campo nel primo tempo per poi subire in modo ridondante l'iniziativa del Fano nella ripresa terzo pareggio filato comunque per il rosso-blu che domenica prossima alle 15 saranno nuovamente di scena al Barbetti contro il Vicenza Gubbio questo dunque il commento torneremo stasera come detto a fuorigioco con ospiti in studio con Roberto Minelli Giacomo Branco a commentare questo pari che decisamente segna una occasione mancata ma alla fine vedendo la partita è un punto guadagnato per i rosso-blu attesi domenica da un nuovo turno interno ma ben più difficile sulla carta con il Vicenza terzo in classifica parleremo stasera anche di podismo ci saranno in studio ospiti della Gubbio Runner per parlare soprattutto dell'evento di domenica prossima la Corrigubbio che insieme alla Run4U rappresenta un appuntamento ormai classico dell'inizio autunno per gli amanti della corsa del podismo e ci sarà la solidarietà ci sarà anche l'intrattenimento di RGM quest'anno si parte non da Piazza Grande ma da Piazza 40 Martiri un circuito diverso rispetto al solito con partenza e arrivo nella piazza d'ingresso del centro storico noi parleremo stasera dalle 21 noi andiamo al calcio dilettantistico con le pagine dei quotidiani Trestina pari che fa male siamo in Serie D che è occasione sprecata crollo nel finale sul doppio vantaggio in 11 contro 9 il Sandonato Tavarnelle conquista un preziosissimo 2 a 2 il Sandonato era sotto fino a 5 dal termine Montevarchi-Corsaro invece a Bastia Giglio spreca il rigore del pari mentre il Cannara rinvia l'appuntamento con la vittoria 0 a 0 con la Flaminia finita senza gol la sfida che tiene Flaminia che tiene in mano il pallino del gioco poche emozioni infine punto d'oro per il Foligno 0 a 0 a Ponzac i falchetti escono imbattuti dal campo della capolista dopo una gara emozionante la squadra di Armilei ha sfiorato più volte il vantaggio ma nel finale ha rischiato la beffa e Armilei dice abbiamo offerto una prestazione importante i biancazzurri che hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Schiaroli ex rosso-blu nell'ultima mezz'ora vai Tiferno cade un'altra big siamo in eccellenza dopo aver battuto il Zanzisto i biancorossi superano la corazzata tra Simeno decisivo il portiere Vaccarecci giovani Tifernati sugli escudi la copertina stavolta è per Lavano primata in classifica punteggio pieno dopo due turni c'è un solo uomo al comando è Mattia Menichini tra i bomber intanto la Narnese ringrazia Silveri il piccolo gigante Mata Il Gualdo Narnese che vince a Luzzi 1 a 0 e va in vetta Castello del Piano invece si fa male da solo lo Spoleto incassa e sale a quota 3-2-1 per i biancorossi Ducato rimonta da non credere dal 3-0 al 3-4 con doppietta di cola a Sansepolcro mentre Dicato ci ha preso gusto il Vietana ha ripresa 1-1 del Lama questo per quanto concerne l'eccellenza ma in eccellenza Sisi su base o super Sanzisto ancora giù stirati a un rigore di pendenza ribaltano Russo e compagni nell'anticipo ricordiamo Angelana di Sandriani aveva vinto con lo stesso punteggio siamo in promozione Montone Mannita da favola gli uomini di Borgo schianto del Piccione 5-1 un guizzo di Oxa spinge in alto la Casa del Diavolo sul campo del Marra in presa del Mugnano con Buzzi e Fiorucci battono il Castello e poi crollo Tavernelle e nessuna reazione il Ventinella vola mentre Pietralunghese capo e rabbia il Selci di Barontini esulta e vince appunto a Pietralunga Triplo Bellucci più la pazzo il Branca piega la Juventina in trasferta e una Ponte Vecchio d'applausi la Pieveze si è svegliata tardi 3-2 per il Rosso Verdi nel girone B Clitunno sulle Alide Nuovi che Riota doppietta Ghinai Salvucci e il Giovane Santoni asfaltano la Romeo menti infine Vichi una sentenza mette d'accordo il Massa e la MC 98 2-2 e poi titoli sulla prima categoria e sulle prime giornate Madonna del Latte senza freni altro successo e vetta solitaria nel girone A girone B Bagione batte Santa Sabina Pianello e Vitellino in forma girone C Nocero e Torgiano accelerano vittorie che valgono il primato nel girone D sport interni eterni est in alto il Castello esulta con l'Avigliano altre discipline motocross d'epoca tutti in piedi per Fratini a Gioiella Castiglione del Lago applausi a scena aperta per il 71enne di Panicale poker di cuore invece per la vittoria siamo al podismo tris di corse d'applausi alla Stracastello si sono imposti El Calile e Virginia e Leonardi mentre Gloria Guerrini e Gianfilippo Grillo che sono moglie e marito brindano alla quinta Stravalnerina davvero complimenti automobilismo Parretta si esalta il Re di Magione su BMW 318 mentre per il ciclismo lo Junior Caroti e l'Allevo Ricci centra nel secondo posto questo per lo sport della nostra regione un'occhiata vediamo anche a Misano nell'autodromo di proprietà Eugubina Cannibale Marquez Quartarò Quartarò sbeffato a titolo e titolo a un passo in classifica vantaggio di 93 punti dello Spagnolo su Dovizioso ieri sesto Petrucci decimo dice almeno sono terzo alla generale anche Dovizioso deluso portato a casa il massimo un altro italiano che il risultato è Sergio Scariolo tecnico della Spagna campione del mondo di basket Argentina va a KO e i Spagnoli vincono 95-75 il loro mondiale di pallacanestro Foligno è un buon punto a Ponzacco torniamo al calcio di Serie D con la Nazione con una squadra rimaneggiata e tanti infortuni l'espulsione di Schiaroli Biancazzurri pareggiano in trasferta risultato meritato dice Armillei Cannara va bene così fermato il Flaminia Bastia invece beffato Giglio centra la traversa su rigore passa il Montevarchi e poi Trestina sfuma la vittoria nel recupero Biancoreri dominano vanno sul 2-0 ma poi si fanno riprendere nel finale non bastano Belli e Gramaccia la doppietta di Del Santo tra il 41esimo e il 46esimo della ripresa l'eccellenza la vano gola lo scadere e allora Tiferno al comando batte il Trasimeno Ducato incredibile rimonta un po' come quella del Bologna di ieri da 0-3 a 4-3 addirittura in questo caso in 10 uomini e poi in arnesa l'arrembaggio decide il capitano Silveri a Gualdo Gualdo Casacastale che si arrende di misura e poi un titolo sull'Angelana che va e Sandriani dice siamo stati più efficaci Ventinella esagerato fuori casa in promozione il Tavernelle parte male due reti in 4 minuti e viene travolto andiamo anche con la nazione alle altre discipline iniziamo dal basket Perugia Gomez resta guardia alla 19 anni ma di esperienza assisi super team progetto ambizioso e lungimirante campionati che ancora devono iniziare in serie C Silver ma c'è un errore perché in serie D il Gubbio riparte di slancio e guarda al futuro qui il DS Minelli con Chris Poltoni mentre Lorenzo Scappini arriva a Gualdo play di spessore pallavolo ancora lontani anche qui campionati ma intanto è una Bartocini da urlo dopo le prime amichevoli nel tennis successo di Onofri a Foligno eliminato Natazzi Chirulli e Manocci bene i baby del Gubbio ciclismo Mokajana nelle ultime gare di questa stagione poi il titolo sulla MotoGP Marquez è sempre più imprendibile Schiaffo a Vale mi ha dato la sveglia dice l'alieno duella con Quartararo e vince Rossi quarto dice è il massimo qui un'inutile prova di forza definisce Marco Galvani chiudiamo con il messaggero Foligno un punto d'orgoglio il titolo a tutta pagina per i falchetti in serie D che inchiodano al pari la capolista non pesano le assenze pochi rischi e tanto cuore i falchetti chiudono in dieci per il doppio giallo a Schiaroli padroni di casa tosti nella ripresa ma Giabbe Cucci sfiora il colpo paura intanto per Colarieti un colpo alla testa lo porta in ospedale Armillai sorride una prova di carattere da categoria le altre umbre tra Canare e Flaminio un pari che non fa male Follia Tresti in avanti di due gol si fa rimontare Bastia sbaglia un rigore e regala il blitz al Montevarchi andiamo all'eccellenza qui i fari puntati sullo Spoleto gioco ai tre punti bella prova della scuola di Cagliarducci De Paulis e un autogollonzo regalano il 2 a 1 sul neutro di Marcellani Bianco Rossi offre una prova di qualità Ducato in presa Sansepolcro rimonte blitz Tiferno fuga da sogno su base ok LRC Anzisto a secco invece va male al gualdo dove la Narnese coglie la seconda vittoria in due gare infine Petrucci mezza rimonta per il Centauro Ternano a misanne partito dalla sesta fila è riuscito ad arrivare decimo conquistando 6 punti un'altra gara difficile per il Ducatista che non riesce più a fare la differenza il mio peso dice mi sta penalizzando alle sue spalle però arriva il Britannico Rinzi il Ternano sale a 151 punti ed è terzo solitario questo per la MotoGP è anche l'ultimo titolo di questa nostra segna stampa che si chiude qui l'informazione torna alle 13.30 con la replica del Plus e poi a seguire la replica di Umbria Sport da ieri sera da Silvano Vaccarelli questa sera invece torna lo Sport alle 21 con fuori gioco come già detto prima ovviamente gli appuntamenti informativi dalle 19.30 il nostro TG TG Sport e TRG Plus io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione